Ciao, oggi parliamo di testi e più precisamente degli effetti che Canva ti offre per poter modificare le parole scritte. Andiamo subito ad aprire un progetto nuovo, uno qualsiasi, e poi scriviamo una parola. Ecco qua, la ingrandiamo. Cosa possiamo fare di questa parola? Una volta evidenziata andiamo su effetti e qui si apre una colonna che ti mostra che cosa possiamo modificare di questa parola. Cominciamo col primo, ombra. Crea automaticamente un'ombra che noi possiamo modificare utilizzando questi strumenti. Quindi tu osserva la parola. Allora, se diminuisco, diminuisce l'effetto. Se aumento, aumenta la grandezza dell'ombra. Posso anche cambiare la direzione. Posso renderla sfocata. Posso renderla più o meno trasparente. E poi posso agire sul colore. Cliccando questo quadratino posso decidere di mettere il rosso. Ovviamente tieni presente che essendo questa un'ombra, il colore ti viene dato più leggero. Però se tu vuoi aumentarlo, agisci su trasparenza. Se l'aumenti al 100%, tu hai il colore pieno. Questa non è più un'ombra però. Diciamo che l'effetto ombra di solito si tiene dello stesso colore del testo. Io adesso ho messo il rosso perché così è più chiaro e si vede meglio. E lo tengo a un 50, cioè a metà della possibilità. Togliamo questo effetto. Per togliere l'effetto basta selezionare la parola e andare su nessuno. E mettiamo ombreggiatura. C'è differenza tra la prima e la seconda parola. Perché l'ombra è ben definita, dà spessore al testo. Invece l'ombreggiatura è una sorta di alone intorno alla parola. Anche qui lo possiamo un po' aumentare di intensità o diminuire. Questa è quello che possiamo fare con la versione gratuita ombreggiatura. Possiamo solo modificare l'intensità. Facciamo un altro esempio. Togliamo questo e mettiamo svuotamento. Questo è comodissimo perché in questo modo noi abbiamo tolto la parte interna della parola e abbiamo lasciato soltanto il contorno. Anche in questo caso Canva mi dà la possibilità di modificare lo spessore del bordo. Quindi posso diminuirlo oppure posso aumentarlo a seconda di quello che mi serve. Poi cosa abbiamo? Splice. Ecco quello che succede. Noi abbiamo una parte vuota e una parte di colore leggermente spostata. Anche qui io posso aumentare ancora lo spessore del bordo come prima. Posso spostare il riempimento più vicino o più lontano alle lettere la direzione vedete di qui o di là e posso anche cambiare il colore. Ovviamente avendo noi qui di partenza un bordo nero lo splice lo fa in grigio è un po' come il discorso dell'ombra però io posso cambiarlo. Ecco fatto. Adesso metto dei colori molto evidenti perché si veda bene la differenza. Quindi al solito dipende a che cosa cosa mi serve. andiamo avanti ecco ecco come appunto un eco moltiplica l'ombra vedi che qui te ne mette una sola qua te ne mette tre e te le mette in gradazione di colore. Siamo partiti da un testo nero e quindi avrai una prima ombra grigio scuro e poi un'altra ombra grigio più chiaro. Al solito si può diminuire questo effetto oppure si può aumentare cambiare la direzione e cambiare anche il colore. Ecco qui. Andiamo avanti perché non abbiamo finito. Ci sono altre possibilità. glitch aggiunge un effetto un po' ottico che io personalmente trovo fastidioso però potrebbe essere utile. Ecco l'aumento in modo che si veda bene aggiunge due colori questo turchese e questo rosso oppure puoi scegliere turchese e fucsia e anche in questo caso puoi decidere la direzione. Aggiungiamo una pagina e andiamo a vedere neon produce un effetto luminoso come se dietro ci fosse una luce. Allora anche qua si può aumentare o diminuire se io la scritta ecco vedi la metto colorata l'effetto è molto più evidente e anche qui ecco poi decidere di aumentare o diminuire. l'ultimo effetto è l'effetto sfondo qui si aggiunge una sorta di forma al testo anche questa forma si può un po modificare ad esempio aumentando o diminuendo il così si vede meglio aumentando o diminuendo la rotondità della forma puoi anche farla diventare rettangolare ampliando questo sfondo o diminuendolo e anche aumentando o diminuendo la trasparenza per farlo vedere di più o di meno anche qui puoi cambiare colore noi siamo partiti da un testo rosso e evidentemente canva ti propone uno sfondo dello stesso colore ma meno intenso però io posso decidere che invece lo sfondo lo voglio blu e quindi questo è l'effetto io io ho inserito in una pagina che adesso aggiungo qua una sorta di riassunto di tutto quello che abbiamo visto ecco io però posso anche come al solito giocare un po' con questi elementi cioè posso combinarli tra loro per ottenere effetti diversi da quelli che mi vengono offerti facciamo un esempio se io scrivo scrivo quella da cui partiamo il nome dell'effetto da cui partiamo così è più facile e gli dico svuotamento ok adesso io ce l'ho vuoto se io voglio rendere questa parola cambiando colore facendolo risaltare di più posso abbinare l'effetto neon in che modo allora prima di tutto duplico lo metto un attimo qua vado su effetti gli dico neon cambio il colore e poi non faccio altro che sovrapposto porlo e metterlo dietro cosa sarebbe successo se io avessi cliccato l'effetto neon sulla parola svuotamento andiamo a vedere avrei dovuto cambiare il colore alla parola altrimenti mi veniva dato siccome svuotamento l'avevo scritto in nero mi avrebbe dato l'ombreggiatura grigia non avrei potuto cambiare invece in questo modo io posso ottenere sia l'effetto di svuotamento perché voglio semplicemente avere il contorno della parola naturalmente mantengo e li posso anche diminuire in modo che il neon abbia più effetto quindi mantenere il bordo nero ma avere un effetto luminoso di un altro colore se voglio modificare anche l'effetto neon che cosa faccio devo spostarlo qua andare su svuotamento diminuire o aumentare l'intensità e poi rimettere sopra svuotamento quindi questo è l'effetto svuotamento più neon vediamone un altro partiamo sempre dallo svuotamento ok questa volta lo duplichiamo questa volta applichiamo alla duplicazione l'ombreggiatura l'ombreggiatura ovviamente aumentiamo un attimo rimarrà grigia ma io a questo punto posso fare il contrario di quello che ho fatto prima e cioè cambiare colore al testo poi sovrapporre metterlo dietro ed ecco che io ho il mio effetto di ombreggiatura su un testo però con un bordino colorato quindi qui abbiamo svuotamento più facciamo un altro esempio sempre con svuotamento rimettiamo lo nero duplichiamo questa volta aggiungiamo splice ecco qua in questo caso se io sovrappongo posso 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 cambiare la scritta il colore della scritta metterlo magari una tonalità più scura aumentare un po' lo spessore ed ecco fatto che io ho abbinato svuotamento e splice ma avendo la possibilità di giocare anche sui colori che altrimenti non si vedrebbero facciamo un ultimo esempio questa volta partiamo da un effetto diverso splice applichiamo e abbiniamo invece l'effetto neon per dare luminosità in questo caso come puoi vedere ovviamente siccome abbiamo scritto splice in nero l'ombreggiatura all'interno diventa grigia ma noi giochiamo con i colori sull'effetto neon e ad esempio gli mettiamo questo poi come al solito sovrapponiamo e portiamo indietro in questo modo io ho il mio testo nero perché magari mi serve nero e grigio ma ho dato una luminosità azzurrina dietro che altrimenti non avrei potuto non avrei potuto dare quindi in questo caso abbiamo un splice più neon come hai avuto modo di vedere e di sperimentare potremmo stare qui ore a fare prove ad abbinare ed è una cosa che dovresti fare tu cioè provare a mettere insieme i vari effetti per vedere quello che succede tra l'altro è un esercizio molto utile perché in questo modo prendi confidenza con il programma è evidente anche che messi qui su una pagina bianca insomma fanno poco effetto sembrano poca cosa ma adesso ti faccio vedere alcuni esempi di scritte che abbiamo visto prima o con abbinamenti che abbiamo visto adesso messi con uno sfondo completamente diverso e ti accorgerai che effettivamente l'effetto è molto è molto aumentato ad esempio questo è l'abbinamento che abbiamo visto prima visto con uno sfondo con un contesto diverso è tutta un'altra cosa questo è l'effetto eco oppure anche qua sempre giocando sull'abbinamento l'importante è capire che Canva anche nella versione gratuita mette a disposizione degli strumenti ma se hai fantasia e voglia di sperimentare questi strumenti li puoi combinare puoi provare a inventare qualcosa di nuovo e in questo modo avrai dei prodotti che saranno sempre molto originali e personali bene ci vediamo alla prossima per ora buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti